Dal Gran Sasso Science Institute dell'Aquila arriva un prodotto chimico innovativo per la sanificazione dei bagni. Alberto Orsini. Una schiuma da spruzzare nei sanitari dei bagni pubblici, capace di evitare la contaminazione, riducendo le possibilità di contagio da coronavirus. È il progetto concepito da Roberto Verzicco, docente del Gran Sasso Science Institute dell'Aquila e dell'Università di Roma Tor Vergata, con il collega Arcangelo Liso dell'Ateneo di Foggia. Dopo una serie di esperimenti, le simulazioni al computer del comportamento delle molecole di un fluido, applicate alla conoscenza dei meccanismi di contagio, hanno condotto al risultato. Da prove con fotografie ad alta risoluzione e tracciamento di particelle, infatti, il prodotto messo a punto impedisce la formazione di bioaerosol e ne blocca la diffusione, impedendo quindi la contaminazione da agenti patogeni. Abbiamo messo a punto una schiuma che previene completamente questo problema, impedendo la formazione del bioaerosol, cioè quelle goccioline che si formano durante la fase della minzione oppure durante la fase dello scarico del water. Ora, in questo periodo di emergenza Covid, dovendo tornare ad una qualche forma di normalità, sarà inevitabile usare dei bagni in comune, per esempio nelle scuole, nell'università, nei locali pubblici, negli uffici, e quindi questa idea potrebbe aiutare a risolvere il problema.